novena a san francesco d'assisi nono giorno 3 ottobre nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen san francesco con il suo esempio di accettazione gioiosa di sorella morte ci invita a vivere ogni istante della nostra vita terrena come mezzo per conseguire la gioia eterna che sarà premio dei beati san francesco prega per noi padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberarci dal male amen ave o maria piena di grazie il signore è con te tu sei la benedetta falle donne e benedetto rifrutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti